ciao ragazzi appena ritirato il pick up dal tagliando guardate un po cosa mi hanno fatto provare nel frattempo guardate macchina accesa motore elettrico si ferma praticamente carica la batteria me l'hanno data come macchina di cortesia adesso sto andando a riprendere il pick up dicono che ha un'autonomia dai 350 km la cosa incredibile è che si va in giro senza usare i freni adesso sto frenando ma non ho usato il pedale del freno ho lasciato l'acceleratore se ci si abitua ad usare l'acceleratore la macchina è praticamente non si cambia l'olio non si fa il tagliando non si usano i freni non c'è nessun tipo di usura a parte le gomme ed è una macchina divertente anche per il discorso di gestione della batteria quindi sei più portato ad andare piano che andare forte è molto molto interessante c'è una ripresa che è impressionante tolgo l'eco metto in boost perché c'è la B 60 km all'ora senza toccare niente guardate che roba e non dà segni di ecco adesso è raggiunta la velocità adesso io rilascio lascio l'acceleratore vedi che sta frenando e sta ricaricando vedi adesso riazioniamo l'eco lo mettiamo in D intanto non dobbiamo andare forte eccoci così andiamo nella massima modalità di gestione batteria 100-120 km fa il cruise control ovviamente non potevo farmi sfuggire l'occasione di fare un video sulla macchina elettrica che è una figata dalla madonna dalla bici alla macchina ciao ragazzi